Ora faccio anche calma al mio fratello Giuseppe faccio anche gli auguri direttamente il tuo compagno sei con io lavorato quindi per essermi insieme e ti canto questo pezzo non faccio mai però hai tutto voglio fare la cura a spartare la pasta vocale c'è stata una magliora frase che da qua subito si sfoglia e legati a sessono ma sopra che va la mia sessona il tuo corso il tuo corso che è stato un sacro e la mia sessone e le due la mia sessione e le due e la mia sessione dunque non faccio anche non faccio anche il tuo corso Grazie a tutti.